Sarà un incontro tra il giudice delegato Giorgio Iachia e Giuseppe Di Martino a chiarire la volontà degli imprenditori di Gragnano sull'eventuale fitto dello stabilimento e del marchio Antonio Amato di Salerno. Dopo la rinuncia di Antonio e Giuseppe Passarelli a concretizzare il contratto in seguito al rifiuto della fallimentare di rimandare di tre mesi la stipula per presunte problematiche legate alla manutenzione dei macchinari, infatti il giudice delegato e la curatela hanno deciso di scorrere la graduatoria della gara del 5 marzo che ha visto prevalere l'imprenditore casertano per evitare le lungaggini di un nuovo bando contattando già sabato scorso il pastificio Di Martino. L'imprenditore gragnanese ha nuovamente ribadito l'interesse per l'Antonio Amato sebbene chiedendo alcuni giorni per comunicare una decisione definitiva. Per questo motivo ha preannunciato un incontro con il giudice Iachia per definire alcuni aspetti relativi all'eventuale gestione dell'azienda. In questi 45 giorni trascorsi dal bando del 5 marzo la Di Martino avrebbe definito altre trattative tra le quali sembra un accordo di produzione con un altro pastificio almeno fino a settembre. Nonostante ciò è ancora convinta della bontà dell'operazione salernitana. Alla prima apertura delle buste Di Martino aveva proposto 37.500 euro al mese con il mantenimento di 40 addetti rilanciando nella seconda fase a 626.000 euro annui. Una proposta che secondo l'imprenditore di Gragnano sarebbe congrua con il valore del pastificio al quale Di Martino resterebbe molto interessato.